Gli sviluppatori hanno annunciato l'arrivo di un nuovo trailer per quanto riguarda Ice Cream 4 Quando uscirà Ice Cream 4? Genataio! Che piacere rivederti! Che gran piacere! Carissimi amici arrivato per il YouTube E ci sono qua con un video molto importante Ho da darvi delle grandi novità per quanto riguarda Ice Cream 4 Ebbene sì perché la data di uscita potrebbe cambiare Ma questa volta le notizie giungono direttamente da un post degli sviluppatori E anche da uno YouTuber che ha praticamente più di un milione di iscritti Seconda cosa è in arrivo anche un nuovo trailer di Ice Cream 4 Ma non solo perché qua voglio pure provare a fare una sfida Provare a mettere fuori uso Rod sia su Ice Cream 1 e anche su Ice Cream 2 Almeno così ci divertiamo un po' anche con il nostro caro gelataio Quindi che dire partiamo subito Ma come sempre lasciate qui sotto tantissimi like Se la che sarà pari Rod si mangerà un barattolo di cioccolato Se invece sarà dispari Rod si mangerà una zuppa di fagioli Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa si è mangiato Rod Iscrivetevi al canale con la campanella attiva Così anche voi farete parte della Panino Family Ci tenevo anche a ringraziare TheFoxy and Cindy Gamer Channel Ita Perché ha fatto l'abbonamento Grazie mille davvero tanto per l'abbonamento Ma adesso partiamo subito Cominciamo perché non vedo l'ora di partire qua Ok tocchiamo play, facciamo normale Ok dobbiamo mettere fuori uso Rod attraverso le armi Su Ice Cream 1 come arma c'è la paintball gun Quella per sbloccarla dobbiamo praticamente andare nella caffetteria E recuperare le monete no da mettere poi nella macchinetta Va bene vediamo qua il filmato C'è Charlie che si sta avvicinando verso Rod Ma tanto sappiamo bene che fine farà Charlie Lo sappiamo benissimo Quindi niente ciao Charlie E' stato un piacere E' stato un piacere Quindi andiamo di qua Inserisci subito la corda Scendiamo subito E mettiamo subito la mappa all'interno del furgone E vai Allora prendi qua Prendi qua la mappa Veloce 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 Metti qua dentro Ce ne andiamo in caffetteria Dritti verso la caffetteria Dobbiamo trovare subito Il codice della cassaforte Che poi non è neanche una cassaforte E' la cassa del cassiere qua della caffetteria Abbiamo bisogno del codice Per prendere delle monetine Si ma Jay ma pure te Ma portatela da casa Qualche monetina no Portatela da casa Eh vabbè adesso aspettiamo a Rod Che esca fuori In modo che noi possiamo rientrare dentro E osservare pian piano Ogni singolo cestino Sbirciare lì dentro Uno uno Dai Rod Esci fuori per favore Esci fuori Ok sta uscendo fuori Perfetto bravo Rodino Bravo Ok Entriamo subito dentro noi E ora Mettiamoci qua Sbirciamo qua dentro Dentro questo cestino Rod è di là Avete visto si trova lì all'angolo Ok vediamo No non è qua Eh vabbè te pare Vabbè te pare Mi faranno girare Praticamente tutti i cestini Di sto bar Tutti quanti Mi li faranno girare Veloce veloce Su su Muoviti 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 Ok niente Non dobbiamo neanche farci prendere Perché qua c'è un bug In questa versione Se Rod ci prende Praticamente succede questo Il gioco si blocca Quindi lo scopo della missione È anche quello di cercare Di farcela Senza farci prendere E infatti Ciao Rod Ciao Come stai Rodino caro Tutto bene Tutto bene Via 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 Subito che mi ha trovato Subito che mi ha trovato Ecco sta parte dei cestini Proprio non mi piace Non mi piace Non dovevano proprio Metterla secondo me Tu esci fuori Rodino Esci fuori Mamma mia che devo cercare Qua ogni singolo cestino Si è fermato Si è fermato Rod Vieni qua Insomma Si era fermato E si era fermato Sto gelataio Entra subito dentro Ora Rod sta andando di là Quindi adesso noi velocemente Vediamo dentro sto cestino Se troviamo qualcosa Ti prego Fai che trovi qualcosa Direttamente qua dentro Prima che venga Rod No E te pareva E te pareva E mamma mia Sono finiti i cestini Sono quasi finiti Mi sa Che dobbiamo vedere qua dentro Ok Vediamo dentro sto cestino Sbrigati però personaggio Sbrigati Jay A vedere qua Ok No E li ho visti tutti cestini Me ne manca forse qualcuno Eh si Me ne manca uno di là Che adesso ho notato Via 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 Genataio Che piacere Rivederti Che gran piacere No seriamente Quale altro Ah quello là all'angolo Aspettate Non l'avevo proprio notato Quello là lì dietro Che piacere Rivedere Rodino So viene qua fuori Come prima Mamma mia Qua fa reggere Tutte le volte Tanto lo sai che ti porto qui fuori Quindi è inutile che rientri dentro Tanto poi ti riporto qua dentro Ti riporto fuori Scusate Tu Muoviti 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 Ti prego Ti prego Ti prego Fa che sia qui dentro Oh E ce l'abbiamo E ce l'abbiamo fatta Solo che ora Rod sta per rientrare qua Quindi devo fare molta attenzione Ok Genataio Come prima Come prima Cerchiamo di attirarlo fuori Facciamo il trucco di prima Veloce 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 Anche perché dobbiamo aprire di là la cassa Quindi Dobbiamo muoverci Dobbiamo muoverci Vieni qua Rod Vieni qua Mamma mia Le ore soltanto per recuperare sto codice Le ore Che poi mi chiedo perché buttano così il codice della cassa Dentro così la spazzatura Ma perché li buttate lì dentro Ma perché Salta salta dentro Prima che viene Rod Via 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 Ok ok Veloce 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 Apri qua Prendi quelle monetine E vai Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Adesso Rod starà per rientrare dentro Sì è rientrato dentro Quindi io direi di andarmene Subito Via Ok Non è da queste parti Quindi andiamo direttamente qua All'interno del playground E possiamo recuperare la paintball gun Sì che bello Che bello Finalmente possiamo divertirci con Rod Quindi direi che qua su Ice Cream 1 La missione è fatta Perché questo dovevamo fare Essenzialmente questo andava fatto Prendere le monete Metterle all'interno della macchinetta Dopodiché mettere fuori uso Rod Quindi metti qua dentro Perfetto Premi qua il bottone E raccogli la La paintball gun Ok Facciamo un rumore giusto per attirare qua il gelataio Vieni qua Rod Vieni qua Che sono armato Sono armato di paintball gun Eccolo là Guardatelo 3 2 1 E sciottiamo Ok L'abbiamo messo fuori uso per un minuto Sì che bello L'abbiamo messo fuori uso Spettacolare Ok Niente Allora possiamo pure esaurire qua Tanto di per sé abbiamo vinto E ora È il momento di passare ad Ice Cream 2 E vedere se riusciamo a vincere la missione Anche nel secondo capitolo Ok Screen 2 Anche qua facciamo normale Partiamo subito Qui l'arma che c'è invece È la Quella che tiene in mano Charlie All'interno del secret layer Dobbiamo entrare lì dentro Per farlo dobbiamo trovare anche lì Un codice Un pass per entrare Ok Adesso qua c'è il solito firmato Però stavolta è lì Che si fa ciappare Insomma Uno dopo l'altro Si fa ciappare Alla fine pure Jay Si è fatto prendere Pure Jay Quindi insomma Abbiamo capito bene qua Come va a finire Velocemente Prendiamo subito qua la mappa Su su Muoviti muoviti Perfetto Andiamo subito qua Ce ne andiamo al circo Perché l'arma che dobbiamo recuperare Si trova qua nel circo Ok skipiamo pure qua Adesso ci è filmato Con Rod Junior Ma sei Roddino caro Tanto ormai Ti abbiamo visto un sacco di volte In quel modo Perfetto È il momento Di addentrarci Dobbiamo cercare il cestino adatto Per entrare all'interno Del secret layer Però abbiamo bisogno Di recuperare No 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 Dov'è dov'è No via 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 Ciao Rod Ciao Che piacere Rivederti anche qua Ma che bello Vederti qua Rod Cosa vuoi fare Anche te L'attrazione del circo Vuoi andare anche te Qua a partecipare al circo Ti ci vedrei bene Ti ci vedrei bene Partecipare Sì ma tu muoviti qua Con sta girella Qua che gira Via 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 Eh Non lo so Aiuto Sto cosa mi vuole acchiappare Mi vuole acchiappare E non mi farà fare sogni belli Se mi acchiappa No 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 Ok Vedi qua Vedi qua Cerca di vedere in tempo Cerca di farcela Prima che Mamma mia Mamma mia Mamma mia Via di corsa Di corsa Veloce 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 Non sai correre più velocemente Mamma mia Jay Dov'è Rod È di là Via 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 Proviamo a vedere l'altro cestino Che non sono riuscito a vedere in tempo Dobbiamo farcela Dobbiamo farcela Veloce 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 Muoviamoci Incamminiamoci Ci sarebbe l'altro cestino Di qua Speriamo di trovare qui dentro Il pass Ma secondo me Nell'ultimo cestino Lo troverò Anche prima Su Esprim 1 Per trovare il codice Della cassa L'ultimo cestino Quanto ci scommettiamo Che anche qua L'ultimo cestino Sarà quello con il pass E infatti Infatti L'ultimo cestino Che andrò a vedere Sarà quello con il pass E casualmente Rod si trova lì davanti No ci sono altri due Vediamo se ce la facciamo in tempo Rod lì girato Forse possiamo sfruttare La sua distrazione Che lì dietro Proviamo a vedere Vediamo se sta qua dentro Oh Trovato Trovato Via 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 Corriamo 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 Cerchiamo di recuperare L'arma di Charlie Velocemente Apri qua la porta Ok Per recuperare l'arma Ciao Charlie Tutto bene Devo superare il suo record Che poi mi dico Cioè Charlie C'è tua sorella in pericolo Dammi la tua arma E vado a salvare Tua sorella Insomma Perché non me la vuoi dare Perché Insomma Ce l'avevo fatto un po' di tempo fa A vincere il record di Charlie Però si tratta del vecchio telefono Che usavo per registrare Su questo telefono Non l'ho superato il record Quindi mi tocca qua Adesso fare qua Arcade machine Mi devo pure mettere qua In una posizione adatta Veloce Ok E io lo sapevo Lo sapevo Se non riesco a vincere La missione non è compiuta Devo per forza vincere Se voglio Vincere qua la missione Se voglio completarlo Ok Velocemente Salta 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 Altro che geometry dash Mamma mia Mamma mia Sto gioco mi ricordo Che era praticamente Difficile Via 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 Salta 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 Gli incubi fa fare sto coso Fa fare gli incubi Salta di qua Bravo personaggio Bravo vermicello Salta Ok Perfetto No 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 Per poco Per poco Per poco No Ultimo tentativo Se non ce la faccio qua La missione è Finita Perché per avere altri tentativi Devo riguardare un video E non fa parte Della missione Ok Vediamo Vediamo se ce la faccio Fatemi sapere No Missione Non fatta Non ce l'ho fatta Non ce l'ho fatta Peccato Peccato Comunque Fatemi sapere qui sotto Nei commenti delle missioni Da consigliarmi Qua da fare su Ice Cream In attesa del quarto capitolo Perché comunque Il quarto capitolo Fidatevi che uscirà Molto molto presto Ma prima comunque Voglio parlarvi di una cosa Il nuovo trailer in arrivo Ebbene si Gli sviluppatori hanno annunciato L'arrivo di un nuovo trailer Per quanto riguarda Ice Cream 4 Quindi come è successo appunto Su Evil Nun 2 Avremo ben due trailer Il primo è quello che abbiamo visto prima Il secondo trailer Secondo me Ci farà vedere Le meccaniche del gioco O comunque alcuni scenari Che ci saranno Infatti come ben sappiamo Nel secondo trailer Di Evil Nun 2 Abbiamo appunto Visto in anteprima Alcune zone Come ad esempio La chiesa della suora Comunque parti del gameplay Anche la croce Messa così Quella croce Che poi tecnicamente Dovrebbe cadere Per l'evocazione di Nazareth E io non vedo l'ora Di vederlo Per uscire a questo nuovo trailer Preparatevi Perché farò una reazione Seconda cosa La data di uscita Quando uscirà Ice Cream 4 Quando potrebbe uscire Insomma Ice Cream 4 Potrebbe uscire In In questo mese Comunque Uscirà nel mese di maggio Finalmente è maggio Finalmente è arrivato Il mese del quarto capitolo Io non vedo l'ora Di portarvi una mega serie Di questo gioco Perché sarà un grande gioco Ci saranno tante cose Tanti oggetti da sbloccare Tanti segreti da scoprire E non vedo l'ora Di scoprirli Soprattutto insieme Insieme alla Panino Family Come possiamo notare Qua da questo post Che è stato pubblicato Su Instagram Possiamo leggere qua Una cosa E innanzitutto Questo è un post Per ringraziare appunto Del milione Di pre-registrazione Cioè Ice Cream 4 Ha già ricevuto Un milione Di pre-registrazioni E considerate una cosa The Twins è arrivato solo Ad un milione di download Attualmente Ice Cream 4 solo La pre-registrazione È già arrivato Al milione Quindi questo capitolo Supererà anche The Twins E già Ivo Nandu Ha superato The Twins Figuriamoci Questo quarto capitolo Che è atteso Già dal 2020 Un sacco di gente Lo aspettava Questo fa capire Quanto la serie Di Kiplerians È molto desiderata Molto attesa Molto amata A livello mondiale Ma comunque Leggevo bene Qua la frase Una frase che Ringrazierò Per tutto quanto Il supporto E la pazienza Quindi comunque Ci hanno pure ringraziato Questa pazienza Verrà ricompensata Quindi vuol dire Che sì Abbiamo atteso Più di un anno Ma vedremo un gioco Fatto di gran lunga Meglio rispetto A quello che avremmo Potuto vedere Se fosse uscito Molto tempo prima La frase molto importante È il gioco uscirà Molto prima Rispetto a quello Che noi pensiamo Ebbene sì Perché noi attualmente Sappiamo che uscirà Il 28 maggio Con questa frase Ci fa capire Che il gioco Potrebbe uscire Prima di questo 28 maggio Il che non è la prima volta Che i Kiplerians Fanno uscire qualcosa Prima della data di annuncio A parte che qua Non l'hanno ancora Annunciato ufficialmente Però per chi mi segue Già dai tempi di Evil Nun Si ricorderà Di quando gli aggiornamenti Dei nuovi capitoli Venivano rilasciati Anche giorni prima Rispetto a quando Venivano annunciati Ma poi questa cosa È confermata anche Da uno youtuber Che ha praticamente Più di un milione Di iscritte E tratta principalmente Giochi horror mobile Il post è stato scritto Da questo youtuber Che si chiama Night Extreme È uno youtuber brasiliano Infatti l'ha scritto In brasiliano Dove dice È ufficiale Il lancio di Ice Cream 4 Sarà il 24 maggio Quindi Ice Cream 4 Potrebbe uscire Anche il 24 maggio Ma non è Una data comunque confermata Potrebbe uscire anche prima O qualche giorno dopo Diciamo che possiamo Prenderlo come affidabile Perché questo è uno youtuber Molto collegato Con i Kiplerians È molto fine Andiamo qua Torna il pupazzo di neve Giro giro tondo Casca il mondo Casca il pupazzo E tu ti becchi la neve In faccia Ebbene si rod Ebbene si Va bene E io allora direi Di fare una cosa Direi di Non lo so Trovo un posto sicuro Così posso concludere Quel video Il video finisce qua Fatemi sapere cosa ne pensate Spero che questo video Sia piaciuto Se vi è piaciuto Mi raccomando Sparicciate C'è chi ti vedete Iscrivetevi al canale Con la campanella attiva Ci vediamo in prossimo video E come sempre Vi auguro una buona giornata Buona serata E una buona notte Ciao a tutti E buon panino a tutti